Buongiorno, sono Antonio Barbato, l'ex o già comandante della Polizia Locale di Milano e sono qui a fare un appello al Presidente della Repubblica, al Premier, ai Ministri, Ministro dell'Interno, a Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e a tutti i Comandanti delle Forze di Polizia Locale Italiana dovete fornire agli operatori della Polizia Locale Italiana tutti quelli che sono gli strumenti per proteggersi da questo stramaledetto virus. Io vedo molta approssimazione, molto tentennamento, non ci sono gel, non ci sono mascherine, ma spiegatemi come possono fare queste persone a controllare quello che gli avete chiesto di controllare, l'ultima direttiva del Ministero degli Interni è chiara, dobbiamo fare, devono fare, tutto quello che è possibile per controllare che gli accessi nelle città siano quelli corretti come previsto, per necessità urgenti e improrogabili, salute, approvvigionamento alimentare, farmacie, eccetera, e poi non fornirli di quello che serve per tutelarsi. Non è che queste persone sono dei Robocop, non è che queste persone non saranno infettate da questo virus. Forza, datevi da fare, state giocando con la pelle di 60.000 operatori italiani che ce la stanno mettendo tutta per cercare di dare il loro contributo. Grazie!